Ciao a tutti, voglio unirmi a questi stupendi ragazzi che hanno voglia di fare gli auguri agli appassionati di Palacanestro, questi ragazzi che hanno studato in palestra un anno intero per provare a raggiungere l'obiettivo di disputare un trofeo bello, appassionante come quello delle regioni, il trofeo delle regioni. Purtroppo questo maledetto virus non ci ha permesso di svolgere questa festa e quindi dobbiamo stare a casa e dobbiamo semplicemente essere fiduciosi, ottimisti e sapere che con senso di responsabilità ne usciremo, ne usciremo anche più forti, con più umanità, con più cuore da parte di tutti. Quindi cari auguri a tutti, auguri a questi ragazzi stupendi, auguri alle famiglie, auguri a tutti gli appassionati di Palacanestro, a quelli che dedicano tanto cuore a questo sport e tanta voglia di far bene. Ne usciremo sicuramente e ne usciremo ancora più forti. Per adesso cari auguri di buona Pasqua. Ciao a tutti. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti. Uno, due, tre, buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Ciao, volevo augurare a tutti buona Pasqua e speriamo di rivedersi prima possibile. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Una buona Pasqua a tutti. Uno, due, tre, Marche. Buona Pasqua dallo staff e dai ragazzi della selezione regionale maschile.